Farmacia Posi, dottor Fabio Rocco. Dal 1995 una farmacia al servizio dei suoi clienti. Siamo specializzati nella vendita e nolleggio di articoli sanitari, ortopedici e per riabilitazione. Ampio reparto di cosmetica con esame computerizzato della pelle, assistenza qualificata e personalizzata. Settori per l'igiene orale della persona, assortimento di alimenti, integratori e laboratorio di preparazioni galeniche, erboristiche ed omeopatiche. Servizio di misurazione della pressione nelle 24 ore, autoanalisi cliniche, misurazione del peso e massa grassa, servizio CUP regionale.